numero 5 green cell inverter onda pura è un prodotto di qualità che offre una grande versatilità per l'alimentazione di qualsiasi dispositivo il suo modello con una potenza continua di 2000 watt e una potenza a picco di 4000 watt è adatto per la gestione di dispositivi da 230 volt è dotato di una porta usb che permette di caricare anche piccoli dispositivi come smartphone e tablet e di due prese di ricarica che permettono di collegare più dispositivi contemporaneamente dotato di diverse funzioni di protezione come il controllo delle tensioni del sovraccarico delle dispersioni di corrente e dei danni questo inverter è una soluzione sicura anche per dispositivi più sensibili la ventola intelligente di raffreddamento si accende automaticamente in caso di surriscaldamento in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 4 l'inverter krieger da 1500 watt ad alimentazione continua è un apparecchio versatile ed efficiente che offre un picco di potenza pari a 3000 watt dotato di una onda sinusoidale modificata questo inverter permette di convertire 12 volt dc in 230 volta c di potenza e con i suoi cavi può essere collegato direttamente alla batteria del camper è dotato di tutte le protezioni necessarie per evitare danni come sovraccarico innalzamento della temperatura cortocircuito eccetera il display lcd consente di monitorare costantemente tutti i dati forniti dall'apparecchio approvato ce soddisfa tutti i requisiti ros il pacchetto include un kit completo di fusibili anl 3 cavi batteria ft e un comando a distanza cablato se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 3 il nuovo pal power inverter è uno strumento ideale per la carica continua di televisori frigoriferi sistemi audio e altri dispositivi a bordo del camper questo trasformatore di potenza ad onda pura sinusoidale da 1500 watt con una potenza di picco di 3000 watt dispone di tutte le funzioni di sicurezza come l'autospegnimento in caso di temperatura troppo elevata protezione automatica da sovraccarico protezione da cortocircuito allarme acustico per sovratensione display luminoso integrato e sensore di temperatura integrato inoltre questo apparecchio è dotato di porta usb 2.1 due prese per la carica di più dispositivi simultaneamente e una doppia ventola di raffreddamento che si attiva automaticamente quando la temperatura supera i 45 gradi centigradi il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 2 l'inverter giandella onda sinusoidale pura è un prodotto di qualità ideale per i carichi induttivi che richiedono un'uscita stabile fornisce un'onda sinusoidale pura da 2000 watt e dispone di una ventola di raffreddamento che si attiva automaticamente quando la temperatura dell'inverter supera i 40 gradi centigradi con un rumore inferiore a 45 decibel inoltre presenta un display digitale lcd per controllare costantemente la potenza della batteria la tensione di ingresso e quella di uscita e la modalità di protezione dell'inverter è dotato di un fusibile da 30 ampere che protegge il dispositivo e la batteria collegata da sovraccarico di corrente sul riscaldamento e cortocircuiti il design compatto ed ergonomico in alluminio è estremamente resistente a cadute e urti se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 le decoa power inverter ad onda pura è un prodotto di ultima generazione progettato per fornire energia alle apparecchiature elettriche realizzato in alluminio offre eccellenti prestazioni durata e efficienza il dispositivo è solido robusto e compatto perfetto per essere usato in camper barche roulotte campeggi e pullman è molto semplice da installare e basta collegarlo alla batteria di servizio per far funzionare i dispositivi grazie alla sua funzione di convertire l'energia in ingresso in onda pura sinusoidale può fornire l'energia necessaria a frigoriferi tv computer ed altri dispositivi il voltaggio è di 12 volte la potenza continua varia da 3500 a 7000 watt trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video